Un maestro trasferito al sud. E che stai a te sapere? Questa c'è il suono, scusate. Tante cose da insegnare. Voi qua volete cambiare troppe cose. Molte altre da imparare. Eh, lui, lui, is. Però vedo che almeno tu, fortunatamente, l'orecchino non lo porti. Oh, ma nonno mia, l'orecchino, se l'hanno fattuto! Con Paolo Villaggio. Sentite come sono aggraziati questi versi. Struzzi. Per il ciclo risate all'italiana. Crozzano. Io speriamo che me la cavo. Venerdì, 21 e 25, Rete 4.